salve a tutti ragazzi io sono z willyx prima di cominciare con i video ragazzi volevo ci tenevo a dirvi un paio di cose quindi se non vi interessa vi importa la sega potete tranquillamente saltare video in questo punto del video e da lì insomma vi parlo del contenuto principale del video innanzitutto volevo ringraziarvi per l'enorme supporto che mi avete dato c'è chi addirittura ha proposto tra i commenti di aprire una colletta di aprire una colletta per il fatto che ho speso tanti soldi in giochi insomma a proporre di chiedere donazioni per recuperare i soldi che ho speso nell'account addirittura c'è chi ha proposto una petizione per recuperare il mio account e ragazzi vi ringrazio veramente di cuore siete migliori però sinceramente non è giusto che voi paghiate per un errore che io ho commesso è vero che la punizione è ingiusta però ragazzi l'errore l'ho fatto io e non è giusto chiedervi soldi o comunque petizioni e cose del genere per comunque uno sbaglio che ho commesso che è perché comunque lo sbaglio l'ho fatto io non l'avete fatto voi e la responsabilità è tutta mia comunque vi ringrazio veramente un sacco già solo il fatto che pensate a queste cose anche avermi proposto delle idee che avrebbero potuto funzionare seppur con disonestà è comunque molto gentile da parte vostra io non posso neanche andare dalla sonia e dirgli cazzate a parte che ormai ho già detto tutto no già confessato tutto su youtube all'operatore ma poi non sono neanche quel tipo di persona capite io non ce la faccio a dirvi cazzate cioè potevo benissimo fare questa cosa no tipo dire un hacker mi ha rubato l'account entrato sulla sulla sua play 3 modificata mi ha fatto bannare urlare allo scandalo su youtube e fare casino ma l'avessi fatto ragazzi chiamatemi noio chiamatemi scemo io mi sarei sentito male perché non sono una persona che dice cazzate va bene io a me dispiace veramente un botto dire bugie perché mi fa sentire veramente una persona di dram poi comunque dai diciamoci la verità raga ci sono veramente troppi influencer che dicono cagate su internet perché devo far parte di questa setta di di queste teste di gram che vi prendono per il culo faccia no esempio tipo è questa cosa dei fades no della moneta save the kids se volete informatevi fate una ricerca su google anche in italia ci stanno tanti che prendono per il culo però non sono qui per parlare di questo comunque al di là di tutto ciò io vi ringrazio di cuore l'importante ragazzi che ci siete comunque psicologi moralmente parlando mi avete aiutato avete dimostrato che ci siete anche quando faccio altri video e non solo contenuti di gta ed è questa è la cosa che mi rincuora più di tutti e poi l'importante che o almeno il mio account di call of duty perché sennò veramente allora sì che mi passava la voglia di giocare ragazzi ve lo giuro non ho mai portato video su call door ragazzi perché non sono una persona che a cui piace portare semplici gameplay mai dovrò fare dei video su code cercherò di farli per aiutarvi per essere utile e non per far vedere quanto effettivamente fenomeno sono abbiamo già a midino basta e avanza lo zio quindi se volete vedere qualche fenomeno in italia che gioca call door dette nel canale di midino non andate nel mio va bene ragazzi cominciamo con il video finalmente rockstar games ci ha dato altre info sul nuovo aggiornamento estivo di gta online ora la data di uscita non è sicura al 100% sia chiaro però secondo alcune speculazioni anche per il fatto che l'evento finirà il 19 si dice che il nuovo dlc uscirà la mattina di martedì 20 luglio come ci ha fatto sapere anche il nostro modder di fiducia tetsfans 2 con questo tweet dicendo che il dlc uscirà entro due settimane appunto martedì 20 luglio la prima cosa che rockstar games ci ha mostrato potremo fare nuovi raduni di auto però in questa foto sfortunatamente non si intravedono nuovi veicoli mi pare che nella foto ci sia una sugoi una comoda e una karin sultan classic poi questa macchina arancione non so se sinceramente sia una lg retro custom o forse sempre la sultan classic non credo sia una sultan rs e mi ricordo che aveva la parte posteriore differente però se vedete bene dietro le auto c'è un camion pieno di graffiti chissà se è un centro operativo mobile con una nuova livrea oppure sarà un'altra di quelle sapete no mezze proprietà slash veicoli tipo come appunto il com l'avenger oppure il terror byte curiosa come cosa ecco cosa ci ha fatto sapere la rockstar games l'aggiornamento estivo di gta online include l'autoraduno di los centos il cuore puzzante della cultura delle auto di super san andreas consulta i newswire per maggiori informazioni nello screenshot del telefono differente da quello del computer non si sa per quale motivo possiamo vedere verticalmente il posto dell'autoraduno che attenzione non sarà dentro una proprietà ma fuori perché il posto in realtà sarebbe questo che state vedendo nel video grazie a test fans che ci ha fatto sapere dove sarebbe questo punto della mappa le finestre il palo il parcheggio e tutto quanto il resto sono identiche alla foto che ci ha mostrato rockstar games queste che vi sto facendo vedere nel video come faremo però a proteggerci dagli sweaty tryharders che rompono un cazzo con l'oppressor mk2 il p996 laser tutte ste cagate io sinceramente non ne ho idea però penso che insomma in qualche modo ci sarà una protezione no perché se no che cazzo di 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 autora d'uno è no alla fine dell'articolo rockstar games ci ha fatto anche sapere questo ovvero che a partire da questo evento inizieranno a rimuovere le attività individuali per poter introdurre nuovi aggiornamenti e queste attività saranno disponibili a rotazione di aggiornamento in aggiornamento quindi probabilmente rockstar games ci darà nuove missioni di contatti fresche mai viste prima d'ora rimuovendo al tempo stesso missioni vecchie che abbiamo già da anni riguardo altre news da parte di rockstar games rockstar games in un'altra news ci farà sapere che la compilation sarà anche disponibile la compilation di questo dj sarà disponibile in questo futuro aggiornamento di gta online con una speciale versione mixata vabbè insomma si grande sei figo bella lì passando alle news del nostro modder di fiducia secondo il nostro modder avrei sinceramente ragazzi mi importa la sega della musica secondo il nostro modder avremo nuove gare go kart che però non saranno delle gare normali di veicoli di go kart ma bensì delle gare alla mario kart dove potremo sfruttare dei bonus come tipo il turbo e cose simili strano come verranno aggiunte delle gare che non saranno a tema con questo dlc però bene cioè comunque qualcosa di fresco e sicuramente queste gare alla mario kart non verranno rilasciate subito ma dopo qualche settimana dall'uscita del dlc c'è anche una speculazione che dice che un anno fa col dlc estivo delle missioni dello yacht rockstar games ha tolto dei contenuti estivi cinque veicoli in totale una versione differente e una nuova sia del sia sparrow questo elicottero che del cargo bob sono curioso di vedere come sarà questo nuovo cargo bob semmai venisse rilasciato poi abbiamo anche una nuova versione del surfer che vi ricordo sarebbe questo veicolo probabilmente questo surfer che rilasceranno sarà una versione modificabile dallo zio ben e poi abbiamo due nuove auto della polizia anche queste tagliate un anno fa addirittura tra queste ci sarebbe pure il buffalo della polizia ma di un'altra versione che chiaramente non sappiamo però sapete non è un dlc proprio a tema poliziesco quindi la vedo dura che rilasceranno queste cose nonostante tutto c'è comunque la possibilità che potremo ricevere dei nuovi veicoli della polizia volevo anche aggiungere che stranamente rockstar games recentemente ha rifatto la stessa cosa che aveva fatto qualche anno fa ovvero togliere delle mappe moddate per gta 5 su pc dei vecchi gta in questo caso dal sito gta 5 mods è stata rimossa la mappa rimasterizzata di san andreas e anche di vice city qualcosa ragazzi bolle in pentola anche se chiaramente potrebbe essere qualcosa di nuovo che vedremo tra non so mesi oppure anni quindi ragazzi nuovo dlc martedì 20 luglio è per i coddari per chi non lo sapesse uscirà usciranno i contenuti della meta season quando il 14 si 4 il 15 15 ci sarà una nuova mitraglietta una mappa zombie e tipo una nuova modalità di words vabbè non è non lo so che non è il video a tema ragazzi però vabbè già che ci sono no siamo tanto siamo lì no 15 luglio 20 luglio cioè giusto per farvelo sapere per farvi ricordare anche questa cosa nel caso giochiate a warzone o a cold war che insomma non credo penso che giocate tutti a warzone anche perché ho visto che gli italiani è impossibile cioè è possibile trovare italiani su cold war vabbè concludiamo questo video con l'evento della settimana innanzitutto se fate una delle sette nuove mappe sopravvivenza giunte questo giovedì riceverete 100 mila dollari gratuiti e un autobonus attenzione però non dovete fare le mappe vecchie ma le mappe nuove che hanno aggiunto io non so quali sono andate a vedere voi sinceramente di 100 mila dollari mi importa una sega poi tanto su z willyx c'ho tutto quindi volevo anche dirvi è che comunque l'account di gta ragazzi è intatto eh ho perso willy 97 ita ma z willyx ce l'ho ancora quindi tranquilli che video li vedrete che toccandosi le bolse insomma vi farò i video sul solito account che ho sempre fatto è quindi state sereni io l'account non l'ho perso cioè a meno quello di gta quello dove gioca gta 5 non serve vincere ok per avere questi 100 mila dollari non serve vincere basta che giocate poi se perdete o è buona tanti saluti vaffanghi abbiamo poi il doppio guadagno di dollari di rp su tutte le mappe sopravvivenza triplo guadagno di rp e soldi sugli eventi più le sfide free mode se fate una missione via sms di simeon dell'esportazione dei veicoli insomma quella roba dove simeon vi chiede delle auto da portarvi bla 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 eccetera eccetera riceverete questi occhiali il veicolo del podio è la vapid retinio mk2 le prove a tempo si trovano in questi punti della mappa sia del si bandito che le prove a tempo normali mentre gli sconti della settimana che personalmente consiglio sono il 30 per cento sul p45 raccota sul molotoc sulla magari revolte se vi piace l'aspetto altrimenti lasciate perdere perché non è niente di che ed infine il 40 per cento di sconto sul cargobob mentre il 30 per cento di sconto sul bombushka sinceramente la rockstar games se lo può anche mettere avete capito se avete il prime collegato riceverete un bonus di 100 mila dollari lo sconto del 70 per cento sul valkyrie ed infine lo sconto dell'80 per cento sulla sugoi che invece questa macchina è tanta roba peccato che sia solo per chi ha il twitch prime quindi ragazzi da z willyx è tutto noi ci sentiamo al prossimo video